Eventi, gastronomie e shopping natalizio caratterizzano la 33esima edizione di Expo Regalo, dal 3 all'11 dicembre a Umbria Fiera di Bastia. Quattro padiglioni specializzati, 300 stand espositivi, l'area dedicata ai bambini e un palco animazioni caratterizzano il Salone Nazionale del Regalo, che quest'anno si rinnova per l'80%, per usare le parole del presidente di Eptacomf Commercio, Aldo Amoni, in sede di presentazione della Kermess. Tra le principali novità, il Salone Specializzato l'Italia in Tavola, che offrirà al pubblico di Expo Regalo, aperta con ingresso gratuito dalle 16 alle 22.30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 22.30 venerdì 9 dicembre, i sabati e i giorni festivi, una scenografia con aree espositive e ristorative dedicate a tutte le regioni d'Italia. Novità e solidarietà con l'iniziativa Natale Insieme per Ricostruire, dall'8 all'11 dicembre, le due parole chiave di questa edizione. La novità in assoluto a Expo Regalo, che inauguriamo il 3 dicembre, è l'Italia in Tavola, cioè questo percorso autostradale con 20 uscite per altre tante 20 regioni, perché le regioni d'Italia sono 20, e ognuno può fermarsi alla regione, scegliere il menù e degustarlo. Questa è una grande novità. Insieme a questa grande novità abbiamo questo palco di intrattenimento, di spettacolo, e questo diciamo tutti i giorni, principalmente nel pomeriggio, poi abbiamo che entriamo nel padiglione effettivamente dei regali, e poi abbiamo questa grossa manifestazione che di solidarietà ci tengo in modo particolare, l'ho detto prima, apriamo l'8 dicembre fino all'11 dicembre, che è il giorno di chiusura dell'Evento Sporegalo, ci tengo in modo particolare, quindi faccio un appello a tutti quelli che ci ascoltano, di aspettare a fare i regali, di aspettare di comprare gli alimentari per il pranzo di Natale, perché prima il 3 e poi l'8 dicembre potremo anche aiutare queste imprese, queste persone danneggiate dal terremoto. Il pubblico avrà a disposizione anche un palco con animazioni gratuite, con ospiti, spettacoli, esibizioni, sfilate di moda e presentazione di libri. Tra i vari ospiti presenti Gianluca Fubelli di Colorado e Antonio Mezzancella, oltre all'evento Talenti in Tour, particolare attenzione ai nonni e nipoti e ai camperisti. L'altra novità è Shopping Umbria, Shopping Umbria vuole essere un momento di rappresentazione di tutte le attività produttive e commerciali che risiedono nei borghi e nei centri storici per valorizzare il territorio, quindi Sporegalo si apre al territorio. Da parte di Amoni anche la disponibilità di Epta a investire nel centro fieristico dell'Umbria per potenziare i numeri già positivi illustrati dal presidente Bogliari. 400.000 presenze annue, 17 fiere e 35 eventi nel 2016. Eventi come Sporegalo, ha detto Bogliari, implementano la dimensione nazionale del centro fieristico, pieno sostegno all'evento e al complesso fieristico nell'intervento del sindaco Ansideri.